Sesta giornata di campionato, Summer Cup, il girone B, Ajax Dragable 3 pari. Ottima prestazione di Esposito, inquadriamolo, che passa a parla Gianluca Paranti, di Pulta, da calcio a 5, grande intervento del portiere che non si fa sorprendere, Aliberti. Ah, Riberti o Aliberti? Aliberti, c'ho il mio assistente con l'allergia nasottura, quindi... Detto Tyson. Grand intervento di Francesco Galliani, Gianluca Parlanti verso il centrocampista Mariano Merichini, detto Soldatino, ma Carmine Verde non si fa sorprendere. Ancora lui, Paolo, perde pala ingenuamente, Mariano Merichini, grande tiro, grande... No, Mariano, scusami, parlerò a Merichini, volevo dire, c'è lo scuso per l'errore, ancora lui, Mariano Merichini, ma Paolo riesce benissimo. Tufano, grande intervento di Galliani, che cerca Esposito. Marco Troise, ancora lui, Troise, Esposito, ancora lui, in due, lo uccidono, ma nessuno lo ferma, guardatelo. Di fisico, molto dura questa partita. Merichini, contropiede, da solo, forse doveva tirare e non cercare il passaggio. Calcio d'angolo, prende palla, Valerio Merichini, posiziona la palla, cerca il movimento dello stacchi testo di Francesco Galliani, tira direttamente in porta. Contropiede, numero 10, no, si allunga troppo, si allunga troppo. Verso Esposito, numero 7, guardatelo, fitta, esce, tiro! Esterno della rete. Esterno, esterno della rete, tiro, forse di piatto, ci voleva un bel collopiede lì, forse aveva il suo piede. Un mancino. No, non lo so, destro, 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 destro. Carmine Verde. Verso Troise, ma copre bene Parlanti, con la sua boccia enorme. Guarda dietro, bravo, bravo! Carmine Verde a volo, direttamente in aria. Omba, perde la palla, rimessa laterale per i Dragaport. Ma questi sono i fuchi d'artificio questi? Mamma mia, questo è un aereo. Sono fuchi d'artificio, no? Cos'era, non si sa? Benvenuto. Benvenuto. Ci vuole un traduttore, pure. Ci troviamo un po' di Dragaport, sta un po' dormendo, eh? Esposito. Barriale, Stefano Barriale verso, ancora lui, Esposito. Guardatelo, che velocità, che privazione atletica. Bastone. Bravo! Grande Carmine Verde, ancora lui. Troise. Prova subito, subito! Avri in mano, cerca Troise. Grande intervento di Mariano Menichini. Contropiede, e il pallone scivola l'acqua. Un po' del buso, Carmine, oggi. Traduciamolo, che cos'è? Bellissimo. Non lo dà retta, quello. Ah, non lo dà retta, quello. Sottotitoli ci voglio adesso. Barriale Menichini, allarga verso Esposito. Aspetta! Sul secondo palo, Barriale Menichini, numero 7, il fantasista. Grande intervento di... Benvenuto. Benvenuto, giusto, subisce un fallo. Ottimo arbitraggio di Gennaro, buono core. Il top dei top. Aurimba, eh? Sì. Benvenuto. Benvenuto, sicuramente di punta, grande Barriale. Bravo, Pino. Oh, tornate! Menichini. Guarda che cosa, non ti scoperta. Possiamo giudere il collegamento, ringraziamo i gentili spettatori. Un saluto da Max Taglia 1, Stiscia Notizia, Chiedi Steggio. Ciao, ragazzi. 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 Grazie a tutti